Questi non sono corsi online, questa è la mia vita. La professione del wedding planner è complessa. Dietro un immaginario da sogno ci sono le sfide dell'essere imprenditore. Ti insegnerò come creare il tuo brand di successo, dare una svolta alla tua carriera, trovare il tuo stile per ficcare il volo. Il successo è qualcosa a cui tutti aspirano. Per me è la capacità di evolverti quando ciò che fai non ti rende più felice, talvolta fa paura. Ho creato da zero questa attività nel periodo più buio della mia vita. Avevo 20 anni e 15.000 euro vinte a chi vuole essere milionario. Li ho investiti in un'idea folle, mentre tutti mi dicevano, ma è un vero lavoro? Oggi sono un'imprenditrice, ho un'azienda, un team accanto, ma non è stato sempre così. Ho dedicato ogni energia per far sì che funzionasse. Passo dopo passo sono arrivati i successi, le copertine, eventi sempre più impegnativi, budget più alti. La verità? Non ho mai sognato di essere una wedding planner. Ed eccoci qui! L'aerone è il simbolo che ho scelto per Emex Academy. Sono caduta tante volte, ma ogni volta ho trovato il modo di imparare qualcosa e volare più in alto. Voglio condividere ciò che sono, ciò che conosco, darti strumenti reali. Dirti la verità su questo mondo. E se la chiave del tuo successo partisse da qui? Sono Elisa Mocci e questa è la mia Emex Academy.